Buongiorno a tutti, benvenuti alla prima conferenza stampa della stagione dell'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Sono Gabriele Ravizzotti, capo ufficio stampa della Juventus e lascio la parola al nostro presidente Andrea Agnelli. Grazie, intanto buongiorno a tutti. Prima di passare alla presentazione dell'allenatore della Juventus, solo due parole, ma è la prima volta che mi capita di parlare in pubblico e dopo quello che è successo agli europei ci tenevo a fare pubblicamente i miei complimenti all'Italia, al presidente Gravina, al gruppo dirigente, al mister, ai collaboratori e a tutti i calciatori, evidentemente in particolare a Chiellini, Bonucci, Bernardeschi e Chiesa. È stato un mese emozionante, devo dire, una nazionale che ha saputo trovare da non favorita verosimilmente per la competizione, quell'alchimia che spesso fa la differenza ed era bellissimo vedere come i ragazzi si sacrificassero uno per l'altro e questo ha portato a un risultato storico con una nuova vittoria nel campionato europeo, quindi tantissimi, veramente tantissimi complimenti a tutti loro. Come spesso mi capita, o come di consueto, non ho grossi aggiornamenti sui temi, quindi oggi non vi tedierò con aggiornamenti vari, forse un piccolo ed unico accenno che fa seguito al comunicato stampa dopo l'ultimo Consiglio di Amministrazione e che dovremmo essere verosimilmente vicini all'annuncio del Consorzio di Garanzia per la sottoscrizione e liberazione delle nuove azioni eventualmente non sottoscritte, quindi questo auspicabilmente verrà annunciato nei prossimi giorni, ma al di là di questo io non ho grandi argomenti, quindi oggi la giornata è di nuovo interamente dedicata al nostro nuovo allenatore a Max e ci tenevo ad essere io qui con lui per dare il benvenuto a Max. Inutile, abbastanza inutile, superfluo che mi dilunghi nella presentazione del Palmares di ciò che Max ha vinto nella sua carriera, molti dei quali nella nostra società dove ha contribuito a scrivere una striscia consecutiva di Scudetti probabilmente irripetibile, forse quello che l'ha sempre con te distinto e lo ha dichiarato più volte ed è quello che ci è sempre piaciuto vedere, la teoria del cortomuso, quindi è importante arrivare davanti all'ultimo metro. Per quanto riguarda le varie riflessioni che abbiamo fatto, evidentemente ci siamo visti qualche volta, ci siamo visti spesso, devo dire, negli ultimi due anni, ma poi prima, nei giorni che hanno preceduto il suo ritorno al JTC, ci siamo scambiati diverse opinioni e ragionamenti su quello che sarebbe stata la Juventus con di nuovo Max come allenatore e abbiamo condiviso quello che era l'elemento più sincero e quindi verosimilmente quello che sarebbe stato un potenziale rischio, un potenziale rischio sia da parte della Juventus che inevitabilmente avrebbe suscitato all'interno del nostro mondo, nella società, nei tifosi, nei media, nelle reminiscenze di un passato glorioso e un rischio evidentemente anche per Max, cioè per le aspettative che questo avrebbe generato. Ecco, quello che ci tengo a dire è che ogni aspettativa contiene in sé un pregiudizio, un elemento che porta a considerare scontate tutte le tappe intermedie e perfino i risultati e questo è profondamente sbagliato. Qui alla Juventus, come Max sa bene, ma lo sanno bene tutte le donne, tutti gli uomini che lavorano alla Juventus, ogni giorno si lavora per competere su ogni terreno e conquistare vittorie. Conquistare le vittorie non è scontato e pensare che sia scontato sarebbe veramente un errore gravissimo. Chi pensa che i trofei degli ultimi anni siano stati meno apprezzati si sbaglia, perché dietro ad ogni trofeo, dietro ogni annata c'è tantissimo lavoro, tantissimo sacrificio e tantissima voglia di ottenere questi risultati. Ecco, quello che sicuramente la Juventus dà è un ambiente idoneo e adatto ad ottenere questi risultati, che sono le vittorie. Ma queste, da quando io sono arrivato, ma da quando io frequento la Juventus, io non ho mai visto una vittoria che sia stata scontata dall'inizio. Ogni vittoria che la Juventus ha conquistata, l'ha conquistata grazie al lavoro. Vincere costa fatica e vincere soprattutto, come Max mi ha ricordato tante volte, l'ha detto pubblicamente, vincere non è per tutti e quindi chi ci riesce merita rispetto. Andiamo incontro a una nuova stagione, una stagione dove i titoli saranno sicuramente ma quali sono gli obiettivi che vi porrete. Ecco, gli obiettivi che ci poniamo sono di, come sempre, arrivare a marzo, arrivare in primavera, competitivi in tutte le competizioni e poi, da lì in avanti, giocarci tutte le competizioni. Ultimo, ma non ultimo, Max e la Juventus non sono tornati insieme per amicizia, che pure esiste, e questo voglio dire è innegabile da questo punto di vista, ma non siamo tornati insieme per amicizia. Max è l'allenatore della Juventus, da oggi e per i prossimi quattro anni, perché ha la credibilità per scrivere un capitolo completamente nuovo e perché pensa, e di questo l'abbiamo discusso tante volte prima di questa giornata o prima del suo arrivo al GTC, che questo nuovo gruppo dirigente che oggi è qui davanti a me, guardo Pavel, guardo Maurizio, guardo Federico e anche Matteo, che è una linea di continuità, pensa che sapranno agire nel solco della tradizione bianconera. La tradizione bianconera è molto chiara, è fatta di lavoro, serietà, sacrifici e spesso anche vittorie. Max è tornato per questo, perché in questi valori si riconosce, si riconosce nella Juventus e da oggi, o meglio, dal primo giorno che è tornato, noi guardiamo esclusivamente al domani e al futuro. Quindi Max, bentornato, the floor is yours. Grazie. Passiamo alle domande eventuali per il Presidente, prima di passare la parola al Ministero e vi prego come sempre di fare una domanda e presentare voi la vostra testata. Cominciamo. Chiedo se è possibile fare una domanda al Presidente e una al Ministero, perfetto, molto brevemente. Allora, buongiorno signor Presidente, senta, nella valutazione complessiva del ritorno di un allenatore che ha fatto in gran parte della storia della Juventus. C'è sicuramente quel feeling, ma più che il feeling è la voglia di ritornare a fare quello che si è fatto prima, quantomeno se ci sono queste indicazioni. Per quanto riguarda il Mister, invece lei, Mister, ha... Ah, chiedo scusa, sono mortificato, pensavo si potesse... Chiedo scusa, prego... Chiedo scusa, chiedo scusa. No, questo l'ho appena detto, cioè Max è l'allenatore della Juventus perché ha la credibilità per scrivere un capitolo completamente nuovo. Poi la storia della Juventus sia fatta di lavoro, sacrificio, abnegazione e spesso di vittoria, e lo sappiamo, ma gli obiettivi che ci siamo dati, quello principale, è quello di arrivare competitivi in tutte le competizioni in primavera e poi da lì vedremo quello che succederà. Ma non è una questione del passato e come ho detto prima io vorrei parlare del futuro. Buongiorno Andrea, Guido Vacciago, Tutto Sport. Volevo chiedere, la durata del contratto quadriennale è lunga per un allenatore di questi tempi, è difficile vedere un contratto di un allenatore quadriennale. È una questione di fiducia in Max o è una questione di programma che richiedeva questa durata? Entrambi, era un segnale di fiducia e evidentemente voglio dire c'è anche una programmazione che è stata fatta con un'ottica di medio periodo e noi crediamo che Max possa essere la persona giusta assieme a Pavel, Maurizio, Federico e tutto il team dell'area sportiva di portare avanti questo percorso assieme nei prossimi anni. Quando ha salutato Max Allegri un paio di stagioni fa aveva detto che questa era la decisione più sofferta della sua vita da Presidente, questa scelta di riportarlo alla Juve, quanto è una scelta di cuore? Apprezzo che evidentemente voglio dire avete mal interpretato la mia introduzione. Questa non è una scelta che si basa sull'amicizia, sul cuore, che esiste, perché questo è stato chiaro, ma è stata scelta la figura di Max perché crediamo che possa essere lui l'allenatore giusto per aprire un nuovo capitolo della storia della Juventus e quindi più che di affetti è una riconoscenza di competenze verso Max, quindi è l'allenatore giusto. Grazie mille. Volevo fare una domanda specifica. Pochissimi giorni fa sono stati 98 anni dell'inizio dell'avventura della famiglia Agnelli nella Juventus, qualcosa di unico. Visto che è così ravvicinata volevo una riflessione su questa cosa e che effetto fa essere l'ultimo di questo solco e il più vincente di tutti. Non fa effetto. Ripeto, siamo concentrati sul domani. Una cosa che mi ha insegnato la Juventus è che il trofeo più bello sarà il prossimo e in me c'è tanta voglia di guidare questa organizzazione verso vittorie sia sul campo che fuori. Quindi devo essere sincero, effetto zero, concentrazione 100. Nerozzi, Corriere della Sera qui in Torino. Ciao a tutti e due. Io ci provo. Andrea, quando è che hai deciso che Max sarebbe ridiventato allenatore della Juve? È stato scritto che vi eravate visti in Toscana, avete visto la partita, non l'avete vista? Se puoi darci la roadmap della decisione. Grazie. Credo che sia stato un percorso naturale, ma ci siamo visti quante volte negli ultimi due anni? Non lo so. Quindi uno fa delle valutazioni su quella che era la stagione in corso, l'abbiamo sviluppato nell'ultima conferenza stampa e quando si è deciso di apportare determinati cambiamenti sono stati individuati i profili più adatti. Da un lato Max come allenatore, da un lato Maurizio come amministratore delegato dell'area sport, la crescita all'interno e quindi con la responsabilità dell'area football da parte di Cherubini. Quindi c'è stato un ragionamento di rafforzamento dell'area sportiva tutta e come ho detto prima, nelle analisi che sono state fatte, inizialmente con Cherubini e con Pavel, la figura di Max era la figura più adatta per scrivere un nuovo capitolo della storia della Juventus. Allora, passiamo la parola al mister che voleva dire qualcosa. Allora, innanzitutto buonasera a tutti, ben trovati dopo due anni, quindi per me è come se fosse, è la prima volta e quindi ritornare dopo due anni a parlare davanti a voi sicuramente sono anche un po' emozionato e sono anche un po' in difficoltà. Vediamo ora di sbloccare, subito, di rompere il ghiaccio con qualche domanda delle vostre, sempre belle e simpatiche, quindi a cui risponderò. Buon pomeriggio mister, bentornato, Enrico Zambruno di Juventus TV. Le chiedo che Juve ha ritrovato quando ha rivarcato i cancelli del GTC e quali sensazioni ha provato nello specifico? Grazie. Innanzitutto quando ho iniziato, mi sembrava di essere 18 anni fa, quando ho iniziato a fare l'allenatore, emozionato e divertito. Ho trovato, ci stiamo ritrovando perché praticamente per una settimana, dieci giorni ho avuto solamente ragazzi giovani, bravi, di buona qualità, che sabato scorso nella partita hanno fatto anche un buon allenamento, un buon test e ora stanno rientrando tutti quelli della prima squadra. Io credo che tempi per parlare del passato sentimentalismi, basta, finito, come giustamente diceva il Presidente, bisogna pensare al futuro. Da oggi io inizio un nuovo ciclo di lavoro alla Juventus, ho a disposizione un'ottima squadra, stiamo lavorando per cercare di sistemare la squadra. Credo che questa squadra è formata da tanti giocatori giovani di valore, che hanno la possibilità e devono avere la voglia di migliorare perché sicuramente saranno un valore aggiunto e il futuro della squadra e della società. Insieme a questi ci sono dei giocatori anziani che quest'anno in primis sono Ronaldo, Chiellini e Bonucci e questi tre sicuramente devono essere un valore aggiunto per la società, per la squadra perché sicuramente oltre a portare esperienza e tecnica in campo devono essere come esempi per quelli più giovani che devono ancora capire chi non l'ha capito e capire ancora meglio cos'è la Juventus, che è una società dove giustamente, è quello che piace a me, quello che è stato fatto rimane nella storia, quei cinque anni che abbiamo passato insieme sono stati meravigliosi, poi cinque anni fa abbiamo deciso di separarsi perché era giusto il momento di separarci, ora iniziamo un nuovo ciclo di lavoro dove giorno dopo giorno dobbiamo migliorare e dobbiamo mettere dentro delle cose per poter arrivare a marzo e soprattutto cercare di centrare gli obiettivi per cui partecipiamo. Buonasera Ministro, bentornato. Lei ha vissuto due fasi, la prima di contestazione quando arrivò alla Juventus, questa invece è stata una grande felicità nel rivederla. Ecco, lei pensa che in questa seconda fase lei ha lasciato un segno indelebile perché comunque i cinque anni che lei è stato qui ha praticamente vinto quasi tutto quanto. Quindi la inorgoglisce questa situazione? Questa seconda esperienza qui, l'arrivo, la gente che la voleva fortemente? Grazie. A me mi inorgoglisce soprattutto perché la Juventus mi ha richiamato per l'affetto dei tifosi che saranno molto importanti soprattutto se ci sarà la riapertura degli stadi, ma comunque questo è una cosa che non fa sì che dal 22 agosto bisogna cominciare a fare dei punti perché tutti abbiamo zero punti e quello che è stato fatto non è che serve per poter portare trofei futuri, serve solamente per scrivere come è stata scritta la storia della Juventus. Da ora bisogna solamente pensare a quello che dobbiamo fare, lavorare in migliori modi, credo che il DNA della Juventus è un DNA ben preciso dove tutte le vittorie sono arrivate attraverso il sacrificio, il lavoro quotidiano e da questo dobbiamo ripartire ora che sono tornato io. Trovo una squadra comunque che negli ultimi due anni ha vinto un campionato con Maurizio Sarri, ha vinto due trofei l'anno scorso con Andrea Pirlo, quindi io devo lavorare su quello che mi è stato lasciato, che mi è stato lasciato un buono lavoro con dei buoni giocatori. Buongiorno Caselli, MF Davo Jones. Da Toscano a Toscano le faccio una domanda estremamente schietta. Lei tra i giocatori per prima ha fatto il nome di Ronaldo. Ora io dico Ronaldo è una scelta tecnica sua in visione di una nuova strategia di gioco? È una scelta che subisce perché è stata una missione impossible del presidente che poi è diventata possible o è costretto a condividerci la vita? Innanzitutto Ronaldo è un grandissimo campione, è un giocatore straordinario, un ragazzo intelligente tra l'altro ieri è tornato, abbiamo parlato come ho parlato con gli altri giocatori perché altrimenti sembra che parli solo con Ronaldo e con quegli altri ci parli ho parlato con Cristiano, le ho detto che quest'anno è un anno importante, che sono molto contento di ritrovarlo e comunque che ha una responsabilità maggiore rispetto a quella che era tre anni fa perché tre anni fa avevamo una squadra molto esperta con due giocatori completamente diversi come esperienza e come età rispetto a quelli di quest'anno e quindi lui ha una responsabilità maggiore oltre che mettere in campo quelle che sono le sue qualità migliori di Goleador perché i numeri parlano dalla sua credo che lui abbia fatto 133 gol o 131 in 150 partite della Juventus e quindi da lui mi aspetto molto anche sul piano di responsabilità da uomo qual è perché ha 36 anni è ritornato in buone condizioni con grandi stimoli e sono contento poi durante l'anno, come tutti gli anni, come in tutte le squadre, giocando una volta nei tre giorni ci sarà una gestione da parte, verso tutti i giocatori non scordiamoci che io fortunatamente e sfortunatamente non ho passato questo periodo del Covid e quindi sicuramente mi immagino le difficoltà che ci sono state per quanto riguarda gli allenamenti e la gestione dei ragazzi sono stati un anno e mezzo che hanno giocato in totale continuità ed è per questo importante quest'anno cercare di tenerli meglio, nella miglior condizione possibile attraverso una gestione di partite quest'anno poi ci sarà, sicuramente sarà un anno importante anche per Paolo Di Bala che l'ho ritrovato in ottime condizioni, si è presentato molto bene fisicamente ma soprattutto mentalmente Paolo è un giocatore che fa gol quando è un giocatore come Paolo che ha 20 gol nelle gambe, 25 in un campionato calcia le punizioni, è un valore aggiunto come presenze dopo che Lini sarebbe il capitano della Juventus visto che Bonucci è andato e è ritornato e quindi anche da lui mi aspetto molto però ci ho parlato e l'ho trovato molto motivato direi che sono molto contento della squadra che ho a disposizione soprattutto per l'entusiasmo che ho trovato nei ragazzi e questa credo sia la cosa fondamentale attraverso l'entusiasmo, la voglia di lavorare e soprattutto la voglia di raggiungere gli obiettivi direi che potremo fare un'ottima stagione Mister bentornato, Albanese Sport Italia visto che ha già parlato di Ronaldo e di Di Bala le chiedo dei nuovi giocatori che ha trovato se ce n'è uno che la incuriosisce particolarmente, grazie direi che Rabiot è un giocatore secondo me che ha qualità importanti è un giocatore che da centrocampista è un giocatore che deve fare l'anno scorso se non sbaglio ha fatto tre gole Rabiot e credo che per le qualità che ha lui sono pochi è un centrocampista che alla fine dell'anno deve fare molti più gol McKennie è un giocatore che si vede che ha l'istinto del gol che sottoporta un freddo che è bravo molto di testa la fortuna che ho è questa squadra ha tanti giocatori che hanno gol nelle gambe Chiesa, Ronaldo, Morata, Di Bala, Koluzeschi Bernadeschi, Rabiot, McKennie questi sono alla fine del campionato come dico sempre bisogna fare 75 gol 75 bisogna trovarli tra le punte che di solito ne fanno 40 45 poi bisogna trovarli tra i centrocampisti e i difensori poi abbiamo dei buoni saltatori di testa quindi sotto quell'aspetto la squadra ha grande potenzialità e quindi per migliorarla bisogna lavorare tutti i giorni e poi io quando col Presidente ci siamo parlati io a parte che la riconoscenza e la scelta che ho fatto di accettare questa grande sfida perché è una bella sfida una grande sfida una sfida emozionante è una scelta anche non lo metto in dubbio anche di riconoscenza e di affetto perché dopo alla fine ho fatto la scelta della Juventus e quindi ringrazio anche non dire quelle le altre società che mi hanno cercato però dopo alla fine della mattina mi sono svegliata alle 8 ho chiamato Andrea se non sbaglio ho detto guarda Andrea ci vediamo stasera perché è così e quindi sono molto contento e per me e sono anche responsabile della scelta che ho fatto verso una società che direi mi ha dato la possibilità di tornare a allenare e soprattutto la possibilità di tornare a vincere che dopo alla fine è quello che conta Buongiorno Paola Ghemo di Sky Sport vorrei fare una domanda in parte già risposta quindi magari faccio mezza in più una su Paolo Di Bala perché il Presidente qualche mese fa parlando poi del rinnovo del contratto disse noi lo consideriamo in questo momento tra i top 20 in Europa gli riconosciamo questo status ma l'obiettivo di Di Bala è arrivare tra i top 5 tra i primi 5 le chiedo se tecnicamente è un giocatore che può arrivare tra i primi 5 non solo in Europa magari proprio a livello mondiale e l'altra domanda era sull'avversario che ritrova dopo due stagioni rispetto a quella Serie A l'ultima vittoria del suo scudetto se l'avversario che è migliorato di più lo dice anche il titolo ma se è l'avversario più pericoloso è l'Inter e quanto è migliorato l'Inter e se è l'avversario diretto di questa Juventus per quanto riguarda Paolo Di Bala io credo che Paolo abbia dei numeri che sono dalla sua parte poi l'anno scorso sicuramente non ha fatto una nata straordinaria e quest'anno ha la possibilità di dimostrare veramente il suo valore con Paolo è arrivato all'avvento del secondo anno era un ragazzino ora ha 28 anni è nell'età matura e per quello che ho visto io la percezione che ho avuto io ho avuto un'ottima percezione perché comunque ho ritrovato ho lasciato un ragazzo molto giovane e ho ritrovato un uomo un uomo che comunque si rende conto che quest'anno per lui è un anno importante e si è presentato nel migliore dei modi poi Paolo fa gol e nel calcio fa gol è molto importante oltre che ha delle giocate straordinarie e quindi è un giocatore come tutti gli altri su cui punto molto e pretendo molto come ho sempre pretesto da lui per quanto riguarda l'avversario l'Inter quest'anno nel campionato italiano innanzitutto ci sono allenatori importanti perché comunque è tornato a allenare Spalletti è tornato Mourinho Sarri è andato alla Lazio io sono tornato all'Iventus Inzaghi è andato all'Inter e quindi Piole al Mila quindi c'è anche una sfida importante tra gli allenatori l'Inter sicuramente è la squadra che l'anno scorso ha vinto e quindi è la favorita perché comunque di solito chi vince è favorito quindi non bisogna essere bravi piano piano a costruire un percorso che ci porterà a fine maggio che è quello che conta a vincere il campionato poi abbiamo la Supercoppa abbiamo la Coppa Italia e poi la Champions perché tanto tutti mi domandete la Champions tutti ridete mi domandete la Champions la Champions è un desiderio deve essere un desiderio un desiderio da parte di tutti perché ho un po' letto subito a Lega arriva a Champions no vince la Champions ci sono troppe componenti è un desiderio credo che l'obiettivo in attacco il primo obiettivo è quello di passare il primo turno una volta passato poi dagli ottavi abbiamo la possibilità di vincerla perché giochiamo se non ci arriviamo noi giochiamo quindi facciamo un passo alla volta ed è giusto arrivare come obiettivi a quello di marzo per poter essere dentro la stagione in tutte le competizioni questa è la cosa più importante buongiorno mister Francesco Pellino agenziaria le volevo fare una domanda un po' più tecnica qualche tempo fa ci disse che l'unica novità di rilievo nel calcio era stata l'abolizione del passaggio al portiere all'indietro dallo scorso anno c'è un'ulteriore novità le cinque sostituzioni quindi volevo chiederle come si apprezza questa novità e come si rapporterà per quanto riguarda quando ho detto che l'unica novità era il passaggio indietro al portiere l'avevo detto perché perché aveva aumentato il gioco effettivo e quindi una volta la palla teneva a mano il portiere le partite finivano nell'ultimo quarto d'ora le partite finivano perché stavano 1-0 finivano 1-0 ora col fatto che il portiere non può prendere più la palla con le mani le partite statistica nell'ultimo quarto d'ora cambiano ecco perché le sostituzioni sono molto importanti ora se mi dici queste delle 5 sostituzioni io spero non fa casino perché non ci sono abituato è la prima volta quindi non lo so quindi magari all'inizio io mi attengo su 3 poi dopo vediamo capito poi magari passa a 4 poi dopo a 5 magari ne basta solo una perché io credo che sia una una buona soluzione avere la possibilità di avere 5 sostituzioni poi magari sta all'allenatore gestire le sostituzioni nel miglior nel miglior modo un vantaggio c'è che magari prima non lo potevi fare perché ora lo puoi fare perché c'è 5 da cambiare se alla fine del primo tempo becchi una partita storta e ne devi 4 e ne metti 4 questo è una roba che prima non si poteva fare non so mi viene a mente ora delle robe così perché non so ma è stato un panchino con 5 sostituzioni quindi anche lì devo iniziare a piano se no faccio un po' di cassino allora buongiorno mister Giulia Borletto Radio Bianconera una domanda che le ha un po' già fatto Paolo però volevo integrare chiedendole qual è l'avversario visto che ci sono stati tantissimi cambi in panchina quest'estate forse come mai non era successo appunto negli ultimi anni qual è la squadra che così la interessa di più guardare come giocherà o comunque scoprire poi strada strada facendo e poi se effettivamente è vero come tanti hanno raccontato che in questi due anni le è cresciuta una voglia di allenare pazzesca magari anche guardandole le partite soltanto allora iniziamo la seconda per se no poi me la scordo il ho guardato sì un po' di partite più il secondo anno che il primo il primo a intermittenza perché dopo ero a 16 anni che allenavo e quindi avevo bisogno un po' di di staccare il secondo anno un po' di più soprattutto verso la fine quando c'era la possibilità di ritornare ad allenare e quindi volevo capire se ero ancora in grado magari guardando un po' le partite cosa avrei fatto cosa non avrei fatto per quanto riguarda le squadre direi quest'anno un campionato sarà molto equilibrato perché comunque il Milan è cresciuto i giovani che ha quest'anno hanno un anno in più di esperienza e quindi sarà una delle favorite insieme all'Inter insieme alla Juventus insieme a Napoli che comunque Napoli è una buona squadra la Roma di Murigno la Lazio stessa quindi direi io credo che sarà un bel campionato l'importante è dare continuità come sempre perché per arrivare in fondo al campionato e vincerlo bisogna dare continuità ai risultati Vi chiedo solo per cortesia di fare una domanda per consentire a tutti i colleghi che hanno chiesto di fare la loro domanda grazie Buon pomeriggio buon pomeriggio mister Luca Cavallero Tienvo Redio volevo chiederle più nello specifico che tipo di giocatore è secondo lei Kuluseschi e qual è la posizione in cui può essere maggiormente incisivo grazie Allora datemi almeno tempo di vederlo perché l'ho visto due allenamenti ora mago non sono diciamo tento di fare l'allenatore quindi ora magari qualche giorno indipendentemente da questo Kuluseschi è un ottimo giocatore anche lui deve molto migliorare in fase realizzativa è un giocatore che ha un motore importante e quindi è un giocatore migliorabile io credo che questa squadra l'obiettivo di questa squadra è arrivare in fondo vincere più competizioni possibili e soprattutto per me creare valore su questi giocatori cioè migliorarli che è la cosa per cui sono stato chiamato l'allenatore deve portare risultati e creare valore questa tra l'altro è una squadra anche divertente da allenare perché comunque sono tutti ragazzi giovani che hanno potenzialità enormi e quindi con l'entusiasmo e la passione che metteranno sicuramente a fine anno magari saranno migliorati e questo poi dopo far sì che comunque per la Juventus è un valore aggiunto Gianni Balzerini Sport Mediaset avevo in mente un'altra domanda ma poi prendo spunto da una cosa che hai detto le punizioni che tira Di Bal cioè Di Bal sa tirare le punizioni negli ultimi due anni c'è stata una specie di monopolio a sopprescindere dalle poche partite che ha giocato Di Bal l'anno scorso c'è stata una specie di monopolio di Cristiano Ronaldo vuol dire che cambierai qualcosa anche nella gestione di questa situazione? Io non non so le decisioni in questi due anni perché io non c'ero io cerco di sfruttare le caratteristiche dei giocatori Ronaldo è uno che è un calciante più magari da lontano che da vicino Paolo è un calciante da vicino poi è semplice perché uno è destra l'altro è sinistra quindi uno tira a sinistra uno tira a destra poi se verrà un destro calciante bravo vedremo magari Ronaldo tira più da lontano un altro tira più da vicino dipende da caratteristiche del giocatore l'importante è avere dei calcianti che è molto importante anche quello ciao in due anni fuori che magari uno è fuori dalla mischia quindi osserva le cose più freddo più lucido la teoria del cortomuso ha avuto qualche emendamento o è sempre valida come legge di gravitazione universale grazie più che la teoria la pratica perché se fai 90 punti e quegli altri arrivano 89 non è che devi vincere il campionato con 10 punti di vantaggio l'importante è arrivare in fondo a essere quel punticino che basta per portare a casa lo scudetto quindi bisogna lavorare per questo sappiamo che per vincere lo scudetto serve un tot di gol soprattutto serve prenderne pochi perché comunque anche quest'anno più che mai ha vinto di nuovo la miglior difesa se non sbaglio ormai saranno credo tanti anni quindi credo che ci sia stata un'eccezione sola credo l'anno l'ultimo scudetto della Juventus credo che non sia stata la miglior difesa credo però negli ultimi 15 anni c'è un'eccezione ma è stato anche un campionato dove senza pubblico post covid quindi c'è non era neanche facile per i giocatori credo che sia stato un momento veramente molto difficile per giocare a calcio Ciao Max Guidovacciago Tutto Sport tutti quelli che intervistiamo che ti hanno visto dicono che ti ritrovano con un entusiasmo incredibile è corretto dire che ne hai più di ormai sette anni fa quando per la prima volta veniste alla Juventus e visto che ti hanno cambiato il girone di ritorno che lo hanno mischiato la teoria dei punti diventa più difficile da calcolare o no secondo la tua la tua tecnica i punti sono sempre quelli ora dire quanti punti servono in questo campionato io credo che questo campionato a 88 86 tra 86 e 88 sarà la quota scudetto secondo me occhi e croce così è una mia sensazione magari mi sbaglio siamo al 20 luglio però per quanto riguarda vanno giocate io per me va bene così cioè non è che voglio giocare là voglio giocare di qua voglio giocare di sabato voglio giocare di venerdì quando ci diciamo di giocare ci organizzeremo in modo migliore per giocare le partite sapendo che comunque ci sono delle diciamo sono i diritti televisivi che che hanno precedenza quindi bisogna adeguarsi che poi dopo sono quelli che sponsorizzano e quindi bisogna senza far tanto casino accettare e organizzarci Buon pomeriggio Nicola Gallo Mediapason mister bentornato le chiedo se la sfida nella sfida una delle più grandi è riuscire a gestire tutto questo potenziale offensivo di grandissimo talento e tanti gol perché molto spesso queste individualità che nessuno ha alla Juventus non sono mai riusciti a integrarsi una con l'altra quattro anni fa la svolta l'ha fatta sorprendendoci tutti quel giorno con la Lazio e portò fino a Cardiff tutti messi dentro che idea vorrà avere per gestire questo capitale e Quadrado come lo vede perché in questi anni ha avuto questa svolta di essere utile anche qualche metro più indietro in questo momento dire giocheranno tutti insieme non giocheranno tutti insieme è molto difficile sarei molto presuntuosa innanzitutto devo avere tutta la squadra a disposizione e da martedì prossimo l'avrò tutta a disposizione poi da lì devo trovare un equilibrio perché dopo non è che andiamo in campo e metto una formazione per far divertire bisogna mettere una formazione che giochi bene a calcio ma nello stesso tempo che ottenga risultati poi ripeto devo tenere in considerazione il fatto che i giocatori che arrivano dall'Europeo che ha un anno e mezzo che giocano di seguito che poi ci saranno in un mese sette partite blocchi da sette partite difficilmente si troveranno dei giocatori che potranno giocare sette partite di seguito e quindi bisognerà che sia bravo io insieme soprattutto allo staff e qui parlo di preparatori staff medico per gestire al meglio e tenerli nelle migliori condizioni sapendo che poi dopo andranno in nazionale perché ora noi ci ritroviamo lunedì martedì quando arrivano tutti in due settimane bisogna mettersi cioè non è che si può tanto da dista aspettare perché dopo 15 giorni giochiamo e poi da lì una volta che si inizia il 29 c'è la sosta dopo ci rialleniamo non abbiamo neanche forse neanche a ottobre perché c'è l'altra sosta quindi abbiamo 20 giorni per mettersi in piedi e in pista e trovare gli equilibri giusti per farlo io credo che questa squadra ha grande potenzialità e credo molto soprattutto nei singoli giocatori che hanno ancora molto da oltre che da dare soprattutto da migliorarsi e questo credo che sia fatto più positivo di questa squadra visto che si è parlato del suo ruolo un po' allargato a un allenatore che dice anche la sua come già faceva in passato sul mercato se ritiene che quello di cui parliamo tutti c'è un centrocampista sia la giunta che serve a questa squadra o se c'è altro e poi un chiarimento di una cosa che ha detto mi sembra di aver capito lei ha parlato di Chiellini quindi volevo chiedere se posso andare per scontato che ci sarà visto che al momento non ha contratto e poi se ho capito bene che Di Bala sarà il vice capitano di questa squadra o forse no vado a chiarimento gli ultimi due sono due chiarimenti a cose dette su Chiellini risponde il presidente Chiellini mi divertite come al solito ho letto un paio di giorni fa che Chiellini è offeso nessuno l'ha sentito eccetera mi ha incuriosito particolarmente perché l'ho sentito io lunedì scorso visto che gioca da noi da vent'anni visto che come diceva giustamente Max adesso i calciatori escono da due anni ininterrotti mi sembrava ridicolo per il capitano da Juventus interrompere le vacanze per venire a firmare un contratto quindi io quello che chiederei è solo quando scrivete quantomeno informatevi e Chiellini non è un problema il problema è che io non mi sono scusato le domande il centrocampista oppure in generale il mercato si ritiene che quello di cui parliamo noi il centrocampista sia veramente quello che serve per completare la Juve che è in test allora innanzitutto tengo ma no a chiarire perché non c'è niente a chiedere il ruolo di come vi piace dire o scrivere il ruolo di manager io sono arrivato cinque anni fa la Juventus sette anni fa la Juventus e ho lavorato allo stesso modo in cui mi sono presentato ora e sono tornato ora in totale sintonia con la società poi il mercato quest'anno insieme a Federico il direttore Federico Cherubini a Maurizio Arrivabene a Pavel Nelde insieme decideremo cosa si può fare e cosa non si può fare per migliorare la squadra ma io non è che ho rispetto a prima ho più diciamo margine di lavoro il mio lavoro è sempre quello io sono un allenatore che aziendalista che a me è una parola che piace molto aziendalista vuol dire che alla fine io devo portare risultati e creare valore e essere in totale sintonia con la società quando ci sono delle decisioni a prendere ci riuniamo facciamo un confronto e da lì viene fuori la decisione finale questo è il ruolo mio ma che è sempre stato non è che quest'anno è cambiato perché mi viene da assoluto quando si dice no Allegri fa il manager che il manager il mio ruolo è sempre stato questo perché quando io credo che un allenatore quando fa parte di una società la prima cosa che deve fare deve entrare in totale sintonia con la società perché comunque fa parte dell'azienda e quindi non cambia assolutamente niente rispetto a quello che era prima per quanto riguarda invece di Bala nella Juventus c'è una linea gerarchica che è quella che il capitano il vice capitano viene deciso in base agli anni di presenza della Juventus che linea è il più vecchio quest'anno credo Matteo mi sventisce chi è il secondo no di presenza di anni Bonucci è lei però Bonucci Bonucci se n'è andato e quindi se n'è andato e lì ha perso e se n'è a zero che dai fa quando uno decide una cosa si prende una decisione è andato via è tornato e ora il capitano fa un altro se va la fascia la compri e va in piazza a giocare con la fascia ma lei lo sa non è che quindi infatti nell'ultimo anno mio se non sbaglio o nel peruto il capitano è stato anche Mandzukic Chedira e lei è passato in fondo e ora piano piano sta riscalando Romeo Agressi golbuto.com bentornato mister le chiedo c'è un giocatore che ancora non è riuscito a esprimere tutto il suo potenziale alla Juve che lei ha già allenato ed è Bernardeschi le chiedo se pensa che possa avere ancora presente futuro in questo club grazie il mio pensiero e quello che dico io e quello che penso è che un giocatore o è bravo o non è bravo poi ci sono dei momenti in cui anche i giocatori fanno delle annate non felici e questi i motivi sono tanti perché comunque sono dei ragazzi che comunque poi durante diciamo la crescita diciamo calcistica ma anche diciamo di vita personale cambiano perché si sposano rinascono dei figli e quindi queste componenti sicuramente hanno un valore molto alto poi nelle prestazioni perché ci sono dei ragazzi che non ne subiscono e dei ragazzi comunque per trovare un equilibrio diverso ne subiscono e Bernardeschi è un giocatore importante è un giocatore che comunque si ripresenterà con la testa giusta perché è quello che devono fare tutti i giocatori perché da martedì quando ripartiamo dobbiamo sapere che non abbiamo tempo tanto tempo per prepararci e quindi quel tempo che abbiamo deve essere fatto e deve essere ottimizzato perché per creare una squadra perché da martedì siamo solamente un gruppo la squadra lo diventeremo per diventare squadra bisogna lavorare allora le ultime tre domande la tagliata il giornale una domanda molto diretta lei è sicuro che Ronaldo sarà il centro avanti della Juventus 21-22? sono sicuro che Ronaldo fa gol poi dopo che i giochi c'entra avanti un po' più spostati a destra un po' più spostati a sinistra quello lo vedremo però Ronaldo è un giocatore che fa gol ora voi non avete la possibilità di vedere gli allenamenti ma quando si allenano lui di bala sono due cecchini davanti alla porta sbagliano poco e sono delle caratteristiche e delle qualità che tutti non hanno poi qualcuno deve migliorare l'abbiamo è un giocatore che secondo me ha potenzialità importanti poi deve migliorare un po' il tiro a vederlo un po' dall'esterno questa palla gli va sempre un po' dappertutto quando tira invece è un giocatore che nella testa deve avere l'ambizione di fare 10 gol in un campionato perché ha motore ha tecnica ha inserimento di testo è bravo ha un buon piede e deve migliorare alcune cose McKinney lo stesso poi ci sono altri giocatori con altre caratteristiche quindi io da questi devo chiedere da ogni singolo giocatore devo far renderlo al massimo per le proprie caratteristiche e qualità non posso chiedere 10 gol a Betancourt perché Betancourt spero di sbagliarmi ma 10 gol è difficile che li faccia però magari migliora per le caratteristiche che ha ancora Tommaso Turchi da Son buon pomeriggio siccome le piace parlare anche di giocatori di qualità e quello che abbiamo visto in questa conferenza le faccio una domanda anche su Artur che idea si è fatto su di lui e quanto può essere importante magari in questa stagione nonostante l'infortunio e se Locatelli è il profilo giusto in mezzo al campo secondo lei per questa Juve per quanto riguarda Locatelli non ne parlo perché è una roba di mercato e io di mercato non ne parlo per quanto riguarda Artur poverino sono arrivato ho fatto a tempo a mettere dentro la continenza che lui è andato ad operarsi alla fornaca quindi credo insomma credo che sia stata quindi non ho avuto possibilità di vederlo speriamo di recuperare il più breve tempo possibile che è un buon giocatore a tecnica e quindi tra l'altro questo è un è un infortunio dove ci sono poche casistiche e quindi speriamo di averlo in tre mesi speriamo di averlo in un mese e mezzo bisogna essere anche un po' fortunati però ha voglia di rientrare e io tutti lo aspettiamo nel più breve tempo possibile Antonio Bagliara Stampa bentornato e volevo fare una domanda di mercato ma non calciatori mercato allenatori sei uno dei pochi che ha detto due volte sia la Juventus come Trapattoni come Lippi volevo sapere se è vero che sei anche l'unico che ha detto due volte no a Real Madrid diciamo diciamo sì soprattutto quest'anno infatti devo ringraziare anche Real Madrid il presidente comunque per l'opportunità che mi aveva dato però dopo ho fatto riflessioni ho scelto la Juventus perché comunque diciamo è stato anche un gesto d'amore verso una società che mi aveva dato tanto e soprattutto perché credo molto nella squadra è una squadra di giovani comunque è una squadra divertente da allenare però divertente è un discorso poi però bisogna vincere che credo che è l'unica cosa che conta è la cosa più importante attraverso le qualità e le caratteristiche dei giocatori grazie a tutti grazie buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti